Il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa. I genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Lapidario il commento del presidente del Veneto Zaia sulla riapertura delle scuole in programma il 10 gennaio con le nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del governo. Da lunedì alcune scuole riapriranno, altre saranno in dad, dice il governatore. Il caos è dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone e poi a cinque giorni un altro tampone. Al coro di voci che chiede di rinviare l'apertura delle scuole si aggiunge ora anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini e dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che propone di posticipare la ripresa in presenza delle elezioni recuperando poi a giugno. Nei giorni scorsi era stato un gruppo di presidi italiani attraverso una lettera indirizzata al governo a chiedere che dopo le vacanze di Natale si riprendesse con la didattica a distanza fino alla fine di gennaio. E a quelle famiglie che in tal senso vorrebbero un intervento del presidente della regione, Zaia risponde così. Se oggi prendessi la decisione di chiudere le scuole dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. C'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere la scuola. Per il governatore con gli attuali numeri dei contagi è necessario rivedere le procedure. Sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici positivi. Intanto ci sono due novità sul fronte vaccinazioni. La prima si rivolge ai 150.000 over 50 non immunizzati coinvolti nel nuovo decreto che prevede per questa fascia d'età l'obbligo vaccinale e per chi lavora l'obbligo di Super Green Pass. Avranno la possibilità o di prenotarsi e ci sono slot liberi nelle aziende vaccinali in tutte le aziende oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi. La seconda novità riguarda invece la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domenica c'è un Open Day dedicato a questa fascia d'età con accesso diretto in tutto il Veneto. Grazie. 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 Grazie.